buongiorno a tutti benvenuti nel modulo lezioni di russo per principianti oggi faremo la nostra quinta lezione cioè parleremo dell'alfabeto russo voi avete ricevuto una mail con l'alfabeto russo del video che abbiamo visto in classe e in più vi ho mandato il pdf con gli accenti per sapere come leggerlo potete sempre ripeterlo con il video che vi ho mandato adesso facciamo un nostro alfabeto che ho scelto io le parole allora andiamo a vedere come si pronunciano le parole in russo e che cosa vogliono dire comunque non vi ho scritto la traduzione delle parole qua su questo diciamo su questa lavagna ma l'avrete nel materiale che vi metterò nei commenti e quelli e per quelli che hanno una loro mail e sono nel gruppo del corso di russo lo manderò via pdf perciò cominciamo il nostro lavoro vi ringrazio un'altra volta che mi guardate e vi auguro buon studio cominciamo allora l'alfabeto russo la prima lettera che abbiamo detto che ha allora questo è arbus arbus che vuol dire dovete stare attivo a pronunciare tutti gli accenti che ci sono qua B-baraban, V-villa, G-grip, D-dia-dia, E-jeżegodna, J-jo, J-žaba, Z-zajac, I-ikra, I-krotka è yoga, K-koška, L-liod, M-magia, N-nieboa, O-oblačka, abbiamo detto che la O accentuata si legge O e quella non accentuata A, oblačka. P-pravda, R-robot, S-steklo, T-tunnel, U-uvażenie, F-fonar, H-hvość, C-car, C-chai, Š-šapka, Št-ši, Questo è segno duro che è uno E, poi ne parleremo di questi due che sono in rosso. A-bjavlenie, che si trova qua, alla terza posizione di questa parola, U-i, l'abbiamo già fatto esercizio nella lezione prima, lezione 4, S-in, Questo è segno dolce, I-tali-anski, E si trova a questa posizione qua, I-tali-anski, 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 Allora, per questi due suoni che sono le lettere U, che sarebbe segno duro, è quello che è miacchisna, che è segno dolce, dice, loro non indicano dei suoni, ma hanno un ruolo importante nella pronuncia, La lettera segno duro fino alla riforma autografica del 1918 si scriveva in fondo a ogni parola terminante con una consonante forte, da cui la sua denominazione è di segno forte. E per quelli che possono leggere e che si sono iscritti possiamo leggere anche gli esempi che sono qua, che ho messo lo stesso dopo l'esempio di leggere anche la traduzione. Allora, iung che vuol dire giugno, la prima parola, e poi malcik che vuol dire ragazzo, italianski italiano, sieppi catena, zar, zar, re, fonari, lanterna, sarebbe fanari, lanterna, Tunnel, tunnel, galleria, abion, volume, abiesniacchi, spiegare, abievlienie, dichiarazione, annuncio, siest, mangiare. Allora, un'altra volta il nostro alfabeto con la traduzione, così se potete anche ricordarvelo. Allora, abbiamo detto argus e il cucomero, baravan e tamburo, villa e villa, grip, fungo, botanico, Giada, zio, ježegodna, che vuol dire annualmente, ogni anno, josh, riccio, jaba, vuol dire rospo, zajat, vuol dire lepre, ikra, caviale, yoga, che vuol dire la yoga, koshka, che vuol dire gatta, liot, che vuol dire ghiaccio, abbiamo studiato qua anche kotze, vi ricordate che era il gatto, questa è la femminuccia koshka, liot, ghiaccio, magia, è la magia, nieba, cielo, oblacca, nuvoletta, abbiamo visto qua oblaca, se ve lo ricordate, pravda, che vuol dire verità, si chiamava così in un giornale in un modo russo, robot, che vuol dire robo, stiko, stiko, vuol dire vetro, tunnel, che vuol dire tunnel, galleria, andiamo a vedere uvagenie, che vuol dire stima, rispetto, fanar, fanar, che vuol dire lanterna, ma può significare anche lampada, kvost, coda, zar, che vuol dire zar, imperatore, o zar, come si dice in italiano, ciai, te, sciapka, cappello, oppure berretto, con due p, due l, sci, che vuol dire minestra di cavoli, o di erbe, questo è il segno duro che entra nella parola abiavlenie, anche con questo suono non comincia nessuna parola, abiavlenie che vuol dire dichiarazione, annuncio, poi c'è uvagenie che si chiama ieri, poi c'è segno dolce, che è italianschi, che vuol dire italiano, aggettivo, e abarotne eta, che vuol dire questo, ciò, jubilei, jubilei che vuol dire anniversario, giubileio, e l'ultima parola è jashik, che vuol dire cas, cassetto, cassetta. Allora con questo vi saluto, vi auguro buon studio e vi do appuntamento alla prossima. Da svidani! Allora con questo vi saluto, vi auguro buon studio e vi auguro buon studio.